Il divulgafiore, informazioni verificate. Tocchiamo un tasto dolente comune a diversi musei dell'area occidentale, parliamo evidentemente di musei che si trovano anche dall'altra parte dell'oceano. Sì, perché quando i nostri eserciti sono andati e vanno tuttora a fare man bassa in territori stranieri, pensiamo per esempio al vicino oriente, all'Africa settentrionale, evidentemente hanno la necessità anche di impossessarsi della cultura di questi popoli, hanno la necessità e la volontà di impossessarsi dei loro beni culturali. Qualche anno fa la Francia ha espresso la volontà di restituire molta parte delle culture materiali agli stati africani. Ci riferiamo al Louvre, sì perché soltanto in Italia abbiamo la fortuna di possedere molti musei importanti per tutta la penisola. Nel resto del mondo non funziona così, c'è di solito uno, al massimo un paio, di musei rappresentativi per la Francia e il Louvre. Una volontà che è stata espressa, stiamo ancora attendendo anche che la Francia la smetta con il neocolonialismo in Africa, visto che l'ha citata e forse però da questo punto di vista siamo sulla strada giusta. E poi c'è il British Museum con l'annosa questione dei marmi del Partenone, metope e statue del frontone di questo monumento che quindi mancano al museo dell'acropoli di Atene. Sono state rubate, parliamo in particolare di opere trafugate dallo stesso lord che voleva rubare persino le metope di Selinunte, ma fu bloccato dalla flotta borbonica in Sicilia. Sì, perché il regno borbonico era all'avanguardia a livello europeo anche in questo settore. Avviò scavi di stato e tutela di questi beni sin dalla scoperta di Ercolano nel 1738. E il British Museum è famoso anche per la Stelle di Rosetta e tante altre opere che sono state rubate, ma pensiamo anche all'Italia, pensiamo alla vicenda di Napoleone in giro per tutta l'Europa. E in America? Ecco, i musei della costa occidentale americana, che sono nati dai possedimenti di grandi imprenditori, sorprendentemente non parlano mai delle culture locali. È certo che non ne parlano, perché altrimenti dovrebbero fare riferimento e ammettere il genocidio che è avvenuto contro i veri americani, i nativi, i cosiddetti pelle rossa. E allora troverai questi musei dove si parla solo di Italia, di Egitto, di Europa, eccetera, eccetera, ma nulla si dice sulle culture di quel territorio. Ma non sono solo gli americani ad agire in questa maniera, perché anche noi europei facciamo scuola. Pensiamo alla nuova sede del Louvre di Abu Dhabi, che è proprio l'esempio di come non si dovrebbe fare un museo. Sì, perché parla soltanto di tutto fuorché della storia e dell'archeologia dell'Arabia Antica. Quindi l'unica cosa di cui dovrebbe parlare non viene minimamente accennata all'interno di questo museo, ed è un museo europeo, però diciamolo, è francese. E quando si dice, ecco, in Italia ci sono stati tanti scavi clandestini negli ultimi anni, negli ultimi decenni, anche negli ultimi secoli, ecco perché tutto questo è avvenuto. In Italia è il caso più eclatante, però questa cosa si è distribuita anche in altre zone d'Europa. Ecco, a chi faceva comodo che ci fossero questi scavi clandestini? A chi giovava tutto questo? Te lo dico io perché è stato dimostrato dai documenti agli americani. Giovava proprio a questi musei americani che hanno alimentato nel corso degli anni gli scavi clandestini, soprattutto in Italia. Le opere trafugate facevano poi la traversata dell'oceano e sono oggi messe in mostra in questi luoghi. Alcune sono state restituite, altre ancora no. Iscriviti al canale e attiva le notifiche.